Questo non è il posto giusto per vostro figlio, anche se la polizia ci porta qui praticamente tutti coloro che trova in tale stato. Ma casi acuti? Sì, dobbiamo prendere i casi acuti perché hanno chiuso le celle di sicurezza e quindi ci portano qui persone in uno stato aggressivo ma che in realtà hanno solo da superare l'intossicazione. Mi dispiace, non possiamo fare altro per lui qui. Ha perso un amico? Sì, lo so. Sì, mi dispiace. Può darsi, ma in primo luogo è dipendente dalla droga. E quindi ha bisogno di un centro di recupero. E noi non siamo responsabili per questi casi qui. Ma dovete ottenerlo? Il suo amico è morto accanto a lui. Pite zucco. E se ne metti in segno di clavio da oher, Marina, non è già molto più da dove ho già un po' l'uomo. Va bene. Allora, gli do una prescrizione per i sostitutivi. E scrivo una raccomandazione per un posto di terapia. Magari con questa storia lo prendono prima. Purtroppo qua in provincia soltanto le chiese danno conforto di assistenza all'ulto. Ma io vorallem zu frech zum Pfarrer. Der wird ihm net helfen. Ovviamente una terapia specializzata in esperienza traumatica aiuterebbe. Però non è supportata la assistenza sanitaria. Trauma-Therapie. So epitialitäres gibt's für uns aber natürlich nicht. Da muss man schon selber mit dem Schicksal fertig werden. Bitte zucco, hör endlich auf. Das Schicksal hat ja wohl eher die Lamberta und den Riccol getroffen. Gut. Die können sich das aber auch leisten. Hast du tronken? Nein. La prego di metti archino di questa terapia. Pago io. Pago io.